Tu che sei entrati in questo video avrai sicuramente letto dal titolo che questo video di Mattiz verrà eliminato esattamente tra 48 ore In cosa ci cimenteremo oggi? E soprattutto perché questo video così misterioso verrà eliminato? Lo scoprirete solo dopo la comparsa del nostro scheletrino Scheletrino E ciao a tutti ragazzi io sono Mattiz e bentornati sul mio canale Da come avete visto nella intro e dal titolo di questo video ci troviamo in un video temporaneo Perché si questo video verrà eliminato esattamente fra 48 ore Questo video verrà eliminato perché sto per proporvi una sfida In questo momento ragazzi io mi trovo esattamente a 3979 iscritti Siamo a un passo dai 4000 E ovviamente arriverà lo speciale E' proprio qui che entra in gioco questo video Perché ragazzi se questo video raggiungerà i 100 mi piace In 48 ore ovviamente Io vi porterò lo speciale 4000 iscritti in tempi record Entro la prossima settimana Subito dopo il raggiungimento di questo 100 mi piace Io mi metterò subito al lavoro E cercherò di fare tutto il prima possibile Per portare questo speciale entro una settimana dopo dall'uscita di questo video Piccolo spoiler questo speciale punterà sul divertimento Quindi dai è così Cosa succederà nel caso non dovessimo raggiungere questi 100 like? Lo speciale ci sarà comunque ma me la prenderò un po' più con calma Questo video ovviamente non finisce qui Oggi infatti ci ritroviamo su Clash Royale Perché mi sono ricordato una cosa abbastanza particolare Diciamo che il gioco principale del mio canale è appunto Clash Royale E cosa furbissima io nei miei video Oltre al deck troll dei goblin che caricai un po' di tempo fa Dove non mostravo proprio delle partite Nei miei video non ho mai fatto un video dedicato alle partite 2 vs 2 Che a mio parere sono la cosa più bella di questo gioco Quindi ragazzi oggi vi andrò a mostrare il deck che io utilizzo nelle battaglie 2 vs 2 E ci andremo a fare un po' di partitelle insieme Così per divertirci e vedere qualche bella tattica Mi raccomando guardate tutto il video e lasciate il mi piace per lo speciale Eccoci qui su Clash Royale Non ho nessun baule da aprire tranne questo bellissimo baule magico Che purtroppo non potrò aprire Perché ho intenzione di registrare un video veramente particolare e bello di Clash Royale Dove appunto mi servirà questo baule magico e altre cose ovviamente che adesso non vi dirò Quindi ragazzi dovrete aspettare So che già avete tutti gli occhi su sto baule magico Tipo perché non lo stai aprendo Ma fidatevi che ne verrà la pena aspettare Questo è il deck che andrò a utilizzare in questa sfida 2 vs 2 È un deck basato sul gigante lacimitero Che ho visto che online è veramente devastante Perché mette molto in difficoltà Tutte le altre carte sono veramente economiche Che serviranno appunto per far girare il deck e per difendere E con un buon contributo del nostro alleato ovviamente si vincerà in maniera abbastanza semplice Ok siamo con Franco Ciao Franco che ha un deck con domatore e barbari scelti Che potrà essere abbastanza utile Dai vediamo come possiamo comportarci Lui manda subito il domatore quindi io cerco di supportarlo con le mie carte Butto anche la fireball e vediamo cosa si cosa Oddio 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 attenzione Il nostro attacco è stato veramente distrutto in una maniera facilissima Ma anche noi ci siamo difesi alla grande Lui mette il gigante royale là Contento lui Io vado a Aya no non ho visto la valchiria Perfetto grande Franco che ha la torre inferno che ci salverà sempre Tre moschettieri devastati con doppia fireball va bene così Abbiamo fatto veramente tantissimo danno con queste doppie fireball alla torre Io adesso preparo il mio gigante Anzi no non è vero Non è vero mai nella vita Anzi si lui ci mette il moschettiere Quindi io direi di andare con il gigante proprio in questo momento Mette il tronco Io metto il tronco Scusate un attimo ma abbiamo fatto la torre Mamma mia A volte mentre gioco non capisco niente non riesco manco a parlare Ragazzi abbiamo fatto un attacco veramente perfetto Fantastico vai così 1 a 0 per noi Aiaiai lui c'ha quella Ed è veramente pericolosa Butto la fireball Butto la fireball Non buttare la fireball Ha buttato la fireball Niente ragazzi questo è la partita delle doppie fireball Non posso farci niente Vado con questo Lui ci mette il moschettiere Il nostro Io a sto punto metto la cimitero qui Perfetto 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 Butta la zap Butta la zap Grandissimo Vai che la cimitero ci aiuterà molti Iiii Non l'ho visto mai Oh mio dio Oh mio dio Meno male che ci aveva l'orda di scheletri Se no adesso eravamo fregati E anche il tronco mio che ha dato una mano veramente assurda Ragazzi stiamo giocando veramente alla grande Dai che lui c'ha le risier Come va ad avere tutto sto risier franco Qui non c'è un cavolo È riuscito a mettere i barbari scelti in tempo Meno male ragazzi Adesso butto la fireball E la butta anche lui Ovviamente E niente ragazzi Questo è il video delle doppie fireball È una tattica da non sottovalutare Vai così Una vittoria per noi Intanto la gente saluta youtube Io saluto veramente tutti i membri del clan Mi raccomando C'è spazio nel clan principale Quindi io direi proprio che siete tutti invitati a entrare Niente A questo punto io mi farei una seconda partita Visto che la prima è andata veramente bene Vai così Un'altra partita con franco Visto che nella prima ci siamo comportati veramente bene Speriamo di vincere ragazzi Perché abbiamo bisogno di corone Diciamo che stiamo un po' indietro con il baule La valkyria verrà uccisa Ok no Devo mettere il mega sgherro Da questa parte invece Io non ho nulla da mettere Tranne la fireball Perfetto così Se adesso ho le risirpe E la cimite No no Ci ha messo la valkyria Niente da fare Allora Allora Se il mio caro franco Riesce a uccidere quel boia Io metto gli sgherri sulla valkyria Ok Perfetto Perfetto così Vabbè La valkyria farà un po' di danno Ma non fa niente Più o meno Oddio Basta Uccidetela Cioè ci ha devastato la torre Mamma mia Ok bravissimo Metti la Inferno Ok questo C'ha un deck aereo Io invece vado con il gigante Perché qua Se non attacchiamo Si fa veramente brutta La situazione Bravo Metti la fireball Grande franco E adesso ragazzi La nostra cimitero Che l'avversario Non sa che abbiamo Perché non l'ho ancora usata Ci ha fregato Ci ha fregato Non ci posso credere Non ci posso credere Ci hanno un'altra valkyria Non ci posso credere Che sfiga ragazzi Attenzione però Potrebbe arrivare a torre La nostra combo Potrebbe arrivare a torre La nostra combo Infatti è arrivata Buttiamo anche una fireball E Abbiamo danneggiato Molto Dai Abbiamo danneggiato molto Siamo quasi alla pari No perché ha messo Oh che culo Ha anticipato il suo domatore In un modo assurdo Con quella inferno Dagli è così Dagli è così Allora questa partita È veramente complicata Perché se noi facciamo la torre Ma anche loro ci fanno la torre È Un po' difficile da vincere Ragazzi Abbiamo il doppio gigante Perfetto Lui ci mette anche la tornata Per farci perdere tempo A me va benissimo Ma ragazzi Adesso io voglio vedere Come si comporta Con il doppio gigante Dovremmo aver vinto Dovremmo aver vinto Spero Fireball qui E ragazzi Con 58 di torre Abbiamo vinto E ragazzi Con 58 di torre Vinciamo Tipo top Cioè aveva buttato anche lui La fireball Ma il tempo era ormai finito E fantastico E fantastico ragazzi Veramente Culo ragazzi Culo Non si può dire altro Dai Non mi giustifico neanche Vabbè ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando I 100 mi piace Per lo speciale Questo video scomparirà Tra 48 ore Quindi Un saluto a tutti quelli Che hanno visto il video Mi dispiace per quelli Che non lo vedranno mai Provate il deck Con gigante cimitero Oppure il deck di franco Che comunque è molto forte Da come avete visto E noi ci vediamo dopo domani Con un nuovissimo video Dagli con i like